Quanto fa un milione diviso sette? Più o meno, più o meno, centoquarantamila, una bella somma. Centoquarantaduemila, ottocentocinquantasette virgola quattordici per l'esattezza. Ho fatto la divisione con la calcolatrice del telefonino. Non si scherza sui soldi in un pianeta pieno di miseria. Forza ragazzi, ci siamo quasi. Cammina più piano, ok? L'ingresso del rifugio è qui dietro. Chi ci garantisce che tu e il tuo amico non ci stiate fregando? Perché dovremmo fidarci di te? Eccole le vostre garanzie. Un milione di garanzie. Fra pochi minuti saremo al rifugio. E tutto procederà come promesso. Mai più. Non provarci mai più.